Lo splendido scenario della Chiesa Madre San Leonardo Abbate a Maschale è fatto da cornicio alla prima edizione della rassegna corale e musicale ideata dalla Proloco di Maschale, presieduta da Roberto Patanè. Ad esibirsi i puere cantores della Chiesa di Maria Santissima Annunziata di Inunziata di Maschale, la Scuola Cantorum San Leonardo Abbate, al pianoforte Luigi Leonardo Pripiceri, Matteo Magaraci, Ilenia Castano, Serena Santitto e Rosario Musumeci, al violino Luciano Caruso, Francesco Garozzo e Lorella Lombardo, con il coordinamento della maestra Anna Simone e i cantanti Agata Fichera. Stefani Turibbio, padre Rosario Di Bella, poi Benedetto il pane e le croci consegnate al sindaco di Maschale Luigi Messina, al comandante della locale stazione dei Carabinieri Nunzio Mammino, che hanno consegnato gli attestati di merito ad associazioni ed artisti maschalesi che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale. L'avesi della sezione di Maschale, presieduta da Solange Grassi, la croce rossa italiana del comitato Ionico e Teneo, presieduta da Carmelo Scaffidi, l'unità al si rappresentata da Mario Sciuto, l'associazione Erce Esercenti Mascalesi, rappresentata da Rita Ferrara, il fotografo Vito Finocchiaro e il tenore Andrea Raiti.